amici di lecco fm buongiorno siamo davanti alla chiesa di sant'andrea maggianico dove si stanno per tenere le celebrazioni per la festa del patrono della guardia di finanza san matteo siamo qui con il comandante provinciale della guardia di finanza enea zanetti oggi è una festa molto importante per tutto il corpo vero si oggi celebriamo il nostro santo patrono san matteo e santo patrono della guardia di finanza e le cui spoglie sono custodite nel duomo di salerno ed è santo patrono al quale la guardia di finanza si ispira nell'esercizio delle sue funzioni quotidiane per noi è anche l'occasione oggi di abbracciare la comunità di maggianico che ci ospita e questa è la ragione per la quale abbiamo scelto di celebrare il nostro santo patrono qui nella chiesa di sant'andrea avendo anche l'onore di avere come ufficiante il vicario episcopale monsignor maurizio rolla comandante come mai è proprio stata scelta la figura di san matteo come patrono del corpo perché san matteo era colui che riscuoteva le tasse per i romani come ci racconta il vangelo quindi una figura sicuramente legata agli adempimenti di quello che era la struttura dovremmo dire dello stato ma che comunque non ha mancato di trovare l'ispirazione anche nel signore nel vangelo e trovare una via di educazione e di rispetto dei principi che poi lo hanno reso santo ed evangelista quindi questa è la sfida che ci viene posta dinanzi e che monsignor rolla ha più volte illustrato nella sua omelia quindi la capacità di servire lo stato ma mantenendo la saldezza dei valori e dei principi cristiani ed è il modello a cui noi ci ispiriamo grazie mille grazie a lei buona giornata sindaco virginio brivio oggi la festa del patrono della guardia di finanza festa quindi del corpo ma anche una festa per tutta la nostra città ma sicuramente forse la guardia di finanza è un po più temuta e meno conosciuta nel dettaglio da parte dei cittadini invece svolge un ruolo fondamentale quello della tutela della legalità soprattutto nel settore economico in una città in una provincia tra l'altro come la nostra ricca caratterizzata anche da fenomeni potenziali di infiltrazioni malavitose e in generale anche di usare la tanta ricchezza che c'è in maniera impropria il ruolo che svolge la guardia di finanza è fondamentale dietro le quinte magari con un controllo e con una attenzione che tutela anche la corretta concorrenza che ci deve essere tra le diverse imprese grazie quindi anche da parte nostra ai tutti gli operatori di questo importante corpo dello stato grazie a tutti